pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati vedrai miracoli se crederai il tema appunto di questa domenica è proprio quello della fede a che serve credere cosa apporta alla nostra vita vediamo in particolare due punti primo punto credere apporta maggior stabilità e sicurezza interiore partiamo da una constatazione tutti abbiamo affrontato e magari stiamo affrontando momenti difficili come sofferenze esteriori o prove interiori sofferenze esteriori la guerra la pandemia una malattia che arriva all'improvviso oppure prove interiori la difficoltà a vincersi in un determinato peccato a sopportare una situazione ad amare una certa persona situazioni che insomma non si risolvono immediatamente e che potrebbero portarci a gridare a dio ma perché non intervieni perché permetti che perduri questa situazione ecco è il grido che cogliamo nella prima lettura di domenica pratta dal profeta abacuc che davanti al dramma del popolo di israele che sta per essere sconfitto dai caldei che si sono rivelati un autentico flagello si rivolge al signore gridando ma fino a quando signore implorerò aiuto non ascolti perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione qui ritroviamo tante delle nostre grida ecco la bellezza della parola di dio ci ritroviamo in essa e lei parla al nostro cuore il profeta dunque grida al signore non è blasfemo interroga dio cerca un perché e qual è la risposta di dio anzitutto si fa carico di questo grido non rimprovera il profeta dicendogli stai zitto come osi no se ne fa carico dio conosce il nostro cuore il tuo cuore sa cosa soffri le pene che provi le lotte che vivi lo sa e sta dalla tua parte si è schierato totalmente dalla nostra parte in cristo salendo sulla croce per noi facendosi carico del nostro rifiuto dell'abbandono qui c'è qualcosa di profondo vedete quando qualcuno grida a dio e possiamo essere noi i primi spesso la mettiamo subito sul piano del giusto o dello sbagliato quante volte abbiamo cercato di silenziare chi è arrabbiato con dio ma tranquilli dio ha le spalle abbastanza larghe per sopportarci sa bene che a volte affrontiamo situazioni difficili e coglie l'aspetto più profondo quel grido esprime una ricerca può essere la ricerca di un perché la ricerca di senso appunto ecco in fondo stiamo cercando lui e quella ricerca a volte combattuta che assume le tinte di una lotta potrà condurre ad un incontro più vivo più vero più profondo portando la persona ad un più libero affidamento in dio che è foriero di una grande pace dunque la risposta di dio inizia facendosi carico del nostro lamento come un padre che vuol stringere in un tenero abbraccio il figlio la figlia che piange non solo continua abacuc il signore rispose mi disse scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette essa attesta un termine se indugia attendila perché certo verrà e non tarderà soccombe colui che non ha l'animo retto mentre il giusto vivrà per la sua fede il signore come se dicesse tranquillo io intervengo e a suo tempo il mio piano si realizza tu intanto fidati di me poggiati su di me soccombe chi non ha l'animo retto chi non sta davanti a dio nella giusta posizione chi pretende di dettare lui i tempi e le soluzioni e non lascia fare dio a dio invece il giusto vivrà per la sua fede è molto bello perché in ebraico il credere viene dalla radice aman che indica il poggiarsi su qualcosa di stabile di sicuro ecco tu puoi essere saldo nonostante il maremoto che hai attorno perché ti poggi su di lui che roccia eterna non a caso uno dei simboli della fede è l'ancora pensate ad una barca sballottata dalle onde del mare ma ancorata al fondo del mare io posso essere sballottato qui e lì da sofferenze esteriori e prove interiori ma essere saldo perché sono ancorato in dio magari non tutte le cose andranno come vorremmo ma chissà forse proprio grazie a quelle situazioni potremmo diventare persone migliori avere fede e fidarsi di dio anche quando non tutto è chiaro e abbandonarsi fiduciosamente anche quando ci assalgono l'ansia e le paure ci sono persone che si bloccano per cose piccole che alla prima difficoltà vanno a pezzi e ci sono persone che vivono con fede in mezzo ai problemi che attraversano difficoltà con una pace infinita non con chissà quali miracoli ma con il miracolo quotidiano di un amore che non si arrende facciamo un secondo passo fermandoci alla prima parte del vangelo credere dilata la nostra capacità d'amare non vi sono solo prove sofferenze miei cari vi è anzitutto la nostra bellissima chiamata ad amare a dare la vita a perdonare ecco il signore gesù ha appena parlato ai discepoli della necessità di perdonare sempre i discepoli davanti a queste parole si sentono piccoli e cosa chiedono signore accresci la nostra fede e quella percezione di insufficienza di incompiutezza davanti a dio che tante volte percepiamo e può condurre alla sfiducia di poter fare ciò che dio ci chiede che sia rispondere ad una sua chiamata particolare continuare ad amare il marito magari un po assente o la moglie un po pesante perdonare una persona qual è la risposta di gesù se aveste fede quanto un granellino di senape potreste dire a questo gelso sradicati e vai a piantarti nel mare e adesso vi obbedirebbe il problema miei cari non è la quantità ma la qualità il punto non è aver una fede grossa e averla la fede non è qualcosa che esiste in sé non è qualcosa da possedere in misura più abbondante non è una capacità individuale da crescere la fede una relazione di fiducia con il signore e adesione personale a lui che coinvolge tutta la persona una relazione chiamata ad avanzare ad approfondirsi nel tempo diventando comunione di vita mi fido di te dunque mi appoggio su di te e seguo quello che tu mi dici gesù la identifica con qualcosa di piccolo di apparentemente insignificante eppure così potente da sradicare i gelsi fuori metafora di permetterti atti d'amore straordinari e di superare prove umanamente impossibili cioè saremo resi capaci di affrontare vittoriosamente anche quelle sfide più complesse della nostra vita perché perché vedremo all'opera dio in noi la sua potenza in noi ecco ricordo una bella espressione che disse una ragazza che davanti ad una situazione difficile pregava dicendo gesù io non riesco vinci tu in me ecco che bella questa espressione signore vinci tu in me potremo fare cose grandi se siamo uniti a cristo a lui che è capace di tirar fuori i figli di abramo dalle pietre di fare dei peccatori più incalliti i santi più grandi a dio nulla è impossibile a tal proposito mi viene in mente la bellissima testimonianza di corri ten bom donna olandese sopravvissuta ai campi di concentramento che nel 1947 raccontava la sua testimonianza a monaco in una chiesa parlando proprio del perdono dei peccati dicendo quando confessiamo i nostri peccati dio li getta nel più profondo degli oceani e spariscono per sempre al termine dell'incontro tutti se ne vanno e le vede avvicinarsi un uomo soprabbito e cappello marrone lui non la riconobbe lei si era uno dei guardiani del campo di concentramento di ravensbrook dove lei e sua sorella erano internate alla memoria le tornarono scene micidiali rivide il grandissimo locale con le luci violente che piombavano dall'alto la vergogna di passare nuda davanti a quest'uomo ora era davanti a lei che le porgeva la mano e le disse un bellissimo messaggio sorella com'è bello sapere che tutti i nostri peccati sono nel fondo del mare e lei diceva e io che avevo parlato così teneramente di perdono piuttosto che stringere quella mano iniziai a frugare nella mia borsetta nel suo discorso ha citato ravensbrook stava dicendo io vi sono stato come guardiano ma dopo sono diventato cristiano so che dio mi ha perdonato le cose crudeli che feci allora ma vorrei udirlo anche dalle sue labbra sorella e di nuovo mi tese la mano mi può perdonare e io stavo lì i cui peccati devono essere continuamente perdonati e non riuscivo a perdonare mia sorella era morta in quel posto passarono pochi secondi ma a me sembravano ore mentre lottavo con la cosa più difficile che avessi mai dovuto fare perché dovevo farlo lo sapevo conoscevo non soltanto il comandamento di dio ma soprattutto ne avevo fatto esperienza del suo perdono e della potenza del perdono dopo la fine della guerra avevo aperto una casa in olanda per le vittime della brutalità nazista quelli che erano in grado di perdonare i loro antichi nemici erano anche capaci di ritornare nel mondo e ricostruire la loro esistenza qualsiasi fossero le cicatrici fisiche quelli invece che alimentavano la loro amarezza rimanevano invalidi era una cosa così semplice così terribile e io stavo lì davanti a quest'uomo col freddo che mi stringeva il cuore ma il perdono non è un'emozione il perdono è un dono ed è un atto di volontà e la volontà può funzionare indipendentemente dalla temperatura del cuore gesù aiutami pregai silenziosamente posso alzare la mia mano questo posso ancora farlo tu fammi avere il sentimento e così posi la mia mano in quella attesa verso di me e quando lo feci avvenne una cosa incredibile una corrente partì dalla mia spalla scese lungo il braccio e balzò nelle nostre mani congiunte e quindi questo calore risanante sembrò scorrere attraverso tutto il mio essere facendo sgorgare le lacrime nei miei occhi ti perdono fratello gridai con tutto il mio cuore per un lungo istante ci stringemmo le mani l'ex guardiano e l'ex prigioniera non avevo mai conosciuto l'amore di dio in modo così intenso come allora mi rendevo conto che non era il mio amore avevo tentato e non avevo avuto la forza era la forza dello spirito santo come riportato in romani 5 5 perché l'amore di dio è stato sparso nei nostri cuori per lo spirito santo che ci è dato cari fratelli e sorelle se siamo aperti al suo amore e disposti a donarlo vedremo la sua potenza all'opera nella nostra debolezza chiediamoci allora quali sono i nostri gelsi interiori quali sono quelle situazioni difficili che affronti che ti chiamano ad abbandonarti con più fiducia e intensità nelle mani del signore ponigliele davanti con fiducia desideroso di fare la sua volontà e sì certo vedrai miracoli se crederai che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti